hola hermoso hola hermosa che tal? io sono Elvira però tu puoi chiamarmi El e questo video è per ti per ti per ti per ti hola mi hermosura oggi in questo video tan relajante sono qui per aiutarti a dormire e a relajare come sempre e anche come puoi vedere questo video è di una qualità più alta più alta più alta è a 60 fps tutto questo per relajare gli occhi oggi ho una attenzione personal per te e poi ti guardare e ti guardare a guardare a guardare a guardare a guardare e quindi ti guardare e attenzione per lo bene e . prima di stavo non ti esqueci di dare a questo video questo mi ayudare un pocci e voglio dar las grazie a tutti i miembri del canale a tutte le persone che si stanno unendo a nostra hermosa famiglia la famiglia delle hermosura del mille grazie los quiero un montone bueno, 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 bueno in questo video in particolare ti pido che miresa la pantalla mi encanta come se vè i secchiati também bueno, bueno, bueno e empiezo toccandote la cara toccandote la cara Tocándote la cara Tocándote la cara Tocando 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 y como estas hoy mi hermosura como estas como estas espero que muy bien espero que genial genial te deseo todo lo mejor siempre ya sabes y hoy tengo varios objetos que quiero poner en tu cara si así voy a empezar con el primero que es mi hermosa brocha que por cierto esta en tinte con mi suéter creo que así se llama este que llevo puesto suéter si es así dimelo en los comentarios y si es así significa que estoy aprendiendo que y le Brushing in tukara Brushing in tukara Brushing in tukara Brushing in tukara Mira la pantasa Mira la pantasa Mira la pantasa Sigue la bronca Sigue la bronca Siente esta brochita tan suavecita Tan suavecita Ves que tan suavecita es Y esta en tu cara Tocar 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 mediante Tocar En tu frente Shhhhh Tus mejillas Chuk 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 è il tuo arpiglia mi encanta che il tono serve tan rosa mi piace mira che hermoso ovviamente si miro aca è perché tengo la pantalla di mi camera io sto vivendo io tambien aca chuk 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 tac , tac, tac, tac esta es una esponjita y es muy suave chuk 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 Suave, puoi vedere che è suave, si vuoi? Suave, 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 come me encanta tu mirada Es una cancion del Luis Miguel, la conoces? Creo que si siente como es suave, esta esponja en tu carita, en tu carita, en tu carita, en tu carita, en tu carita la carita mas hermosa que yo he visto en mi vida Chacu 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 ch e tu hai toccato e tu hai toccato e tu hai toccato me sto relajando io tambien e in tus ognos mira, 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 mira la pantalla mira, 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 mira la pantalla mi hermosura mi hermosura ese es tan lindo, verdad? me parece nuevo mariposas del sueño del mariposas del sueño del 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 mariposas del sueño del 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 aquí tengo otra cosita muy suave que es un face así se llama con esto voy a hacerte un masajito muy muy suavecito en tu carita hermosa un masajito para relajarte mucho 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 così puoi andare a dormire molto bene e molto relajato così come merecesi perché tu tu merecesi solo lo miglior di lo miglior di lo miglior che ci sono in questo mondo di quello meglio di quello miglior di quello miglior di quello miglior che hai dell questo mondo dell ã hash in questo punto in questo punto relajante relajante veo que estas mas relajado muy bien aqui tengo il ultimo objeto di oggi che ovviamente è rosa si, ho elegito questi soni rosa perché io sono di questo color mi conosci, no? e questo è praticamente quasi il stesso color e si vedo genial, mi piace che sonido è un sonido in particolare è un sonido in particolare credo che va a quedar molto bene in un video di sonido che opinas? questo è un ok lo voy a poner en un video di sonido si o si è un masajeador per la cara per la cara che 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 lindo se ve che 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 è vero huele praticamente a mio jabone me encanta me encanta me encanta me encanta lo tengo come ultimo objeto perchè in mi opinion è il più relajante di avere in la cara asi que voy a hacerte un masajito en tu cara con mi masajeador chiquitito para que te duermas y para que te acuerdas de mi antes de dormir es che che lindo che è stile un agarito chuk 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 tuk 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 Massaggio rilegante Veo che stai più rilegando Mi alegro, mi alegro, mi alegro Mi hermosura Sì 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 Bueno, bueno, bueno Buono, 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 mi hermosura Este video tan relevante Aquí se acaba Mil gracias por ver este video Mil gracias por cada comentario y mensaje Y por todo tu apoyo, siempre Mil gracias por ser tan especial para mi Y mil gracias por ser mi hermosura La hermosura de él Yo te mando un beso muy grande Y nos vemos en el próximo, 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 próximo Video Bye bye